Il Consiglio direttivo del Parco Nazionale del Cilento, Vallodidiano e Alburni, ha deliberato una serie di importanti iniziative di sostegno al tessuto socio-economico del territorio per far fronte alla grave crisi che si è determinata in seguito all'emergenza epidemiologica legata al Covid-19. Le misure di intervento adottate, una volta che avranno ricevuto la necessaria approvazione dal Ministero dell'Ambiente in veste di ente vigilante, rappresenteranno un significativo, concreto e utile impegno di risorse con le quali il Parco intende dare un contributo all'economia dell'area protetta. Le prime ad essere interessate da tali misure saranno le aziende concessionarie del marchio del Parco, alle quali l'ente commissionerà la realizzazione di 5.000 cesti dell'accoglienza del Parco, che verranno offerti ad altrettante famiglie che sceglieranno il territorio del Cilento, del Vallodidiano e degli Alburni come meta delle loro vacanze. Con un'analoga misura diretta alle aziende della rete del gusto della dieta mediterranea, l'ente parco finanziere ha l'acquisto di menù della dieta mediterranea, che verranno offerti ai turisti che sceglieranno il nostro territorio. Al mondo dell'agricoltura invece è rivolta l'iniziativa degli agricoltori custodi, il cui compito principale sarà quello di preservare e recuperare le antiche coltivazioni tipiche dell'area del Parco, mediante la coltivazione di orti e campi. Al mondo della scuola è indirizzata l'iniziativa che prevede incentivi economici per gli istituti scolastici che elaboreranno progetti di didattica all'aperto da svolgere nei luoghi più rappresentativi dell'area protetta. Nelle iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo sono previste misure di sostegno per le associazioni di protezione civile che presteranno la loro opera nel settore della prevenzione degli incendi e lungo la fascia costiera nella difesa della flora dunale. Le misure a supporto degli esercenti di attività di noleggio e locazione natanti da diporto e trasporto passeggeri prevedono incentivi economici per ridurre le emissioni inquinanti dei motori, con l'obiettivo di migliorare e preservare la qualità delle acque marine nella nostra fascia costiera. Al fine di favorire la conoscenza del nostro territorio da parte degli studenti sono previste iniziative a sostegno delle agenzie e di trasporto operanti nel territorio del parco. Alle agenzie di viaggio e ai tour operator sono destinati gli incentivi economici per favorire il soggiorno di turisti nelle aree interne del parco. Previste in oltre 100 borse di studio per 100 giovani professionisti che elaboreranno progetti in linea con le finalità di valorizzazione, tutela e promozione del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano al Burni. Destinati anche fondi per fronteggiare l'emergenza cinghiali attraverso la realizzazione di recinzioni elettrificate per la tutela dei campi coltivati. Nella stessa delibera è previsto anche l'aumento del numero dei sele controllori. Questo intenso programma varato dal Consiglio Direttivo prevede inoltre un concorso di fotografia naturalistica, un concorso per il miglior spot video dell'area protetta e un concorso di estemporanea di pittura. Previste anche azioni di comunicazione nazionale e territoriale per promuovere un turismo bello e sicuro nel parco e per far conoscere le misure approvate dal direttivo. Il presidente Tommaso Pellegrino, particolarmente soddisfatto delle decisioni assunte in seno al Consiglio Direttivo, ha dichiarato che le misure varate vanno nella direzione di un parco che ancora una volta mostra la sua dimensione umana, di vicinanza e solidarietà alla comunità residente, intervenendo sui bisogni e le necessità del quotidiano. Nello stesso tempo attraverso queste iniziative vogliamo valorizzare e promuovere il nostro territorio per contribuire alla ripresa del tessuto economico.